Musica Caro popolo di Youtube Italia, in questo video vi mostro un progetto in cui credo Faccio parte della Candle Community, sono una candela, ma cosa vuol dire essere una candela? Essere una candela vuol dire manare luce, una luce di cui Youtube ha bisogno Una luce che maniamo tutti insieme per far fuori l'oscurità dilagante Perché Youtube Italia sta sempre più inscurendosi e rappresenta sempre di più la decadenza del nostro paese Ma la situazione non è irreparabile, no? Almeno finché ci sarà una luce in cui sperare C'è solo un modo per ribellarsi a ciò che sta accadendo su Youtube e quel modo è farci avanti noi Noi che ci mettiamo passione, noi che lavoriamo solito per girare un video che al massimo sarà visto da 10 persone Noi che andiamo a fare ciò che facciamo Noi che siamo una comunità, una famiglia, noi che ci aiutiamo e ci consigliamo a vicenda Noi che ci divertiamo insieme, ci divertiamo con i nostri iscritti Noi che abbiamo un sogno, quello di poter trasmettere le nostre emozioni, le nostre passioni e i nostri valori attraverso questo fantastico social network Noi che siamo una luce, la luce di Youtube Perché io sono una candela Perché io sono una candela Io sono una candela